Gentili telespettatrici e telespettatori di Telebelluno, ben ritrovati per questo nuovo numero di incontro con il nostro gradito ospite in studio, il regista Roberto Soramai. Che saluto e ringrazio. Buongiorno Soramai. Quando ero bambino sognavo di diventare un albero, alcuni mesi fa lei venne qui in studio assieme a Merino Matiuzzi per raccontare questo film documentario sulla montagna per il quale state continuando delle serate per coinvolgere anche le giovani generazioni in questo senso, ma con lei quest'oggi parliamo invece di un altro progetto per il quale sono in corso delle serate nel periodo estivo. Dunque Roberto Soramai è regista, lega la sua opera in parte alla montagna, ma in parte anche al racconto dei suoi viaggi. E allora, Soramai partiamo da qui, un viaggio in Etiopia, nell'Africa, qualche anno fa ha fatto scaturire qualche cosa di importante che poi andremo a raccontare, ma partiamo dall'inizio, perché l'Etiopia, il motivo di questo viaggio e il risultato di questo viaggio che si è concretizzato in un'iniziativa. Sì, è proprio così. Il viaggio è arrivato dopo, il risultato, nel senso che mi è stato proposto da un amico, Michele Filaferro, di collaborare per fare una piccola raccolta fondi da destinare a una fondazione che in Etiopia opera sul territorio del nord, in particolare quello più bisognoso, con opere umanitarie. Quindi lui è venuto a contatto con gli alpini di Feltre, che è un giro veramente incredibile. Siamo arrivati ad Agordo e ci siamo ripromessi di raccogliere qualche fondo da destinare a queste opere umanitarie. Ma nel corso della raccolta ci siamo detti, ma perché non fare un pozzo intero? Cioè, inizialmente è un pozzo legato all'acqua, all'emergenza idrica che c'è in Africa, vero? Sì, in questo caso. Cioè lei ha potuto sperimentare che manca l'acqua e i relativi pozzi, vero in Etiopia? Sì, questo è venuto in maniera dirompente col primo viaggio, con la prima esperienza. Ma il progetto era proprio quello di raccogliere qualche soldino da mettere insieme ad altri per fare un pozzo. Dicevo, la raccolta ci sembrava a un certo punto limitante, così abbiamo pensato perché non realizzare un pozzo completo. L'impegno economico diventava un po' più importante e anche la nostra credibilità doveva essere rappresentata in maniera ufficiale. Quindi abbiamo chiesto al CAI della sezione di Agordo se ci avesse fatto da garante e non ha soltanto accettato, ma si è impegnato molto tutta la sezione di cui sia io che Michele facevamo parte del direttivo io tuttora e si è impegnato con noi a raccogliere i fondi e siamo riusciti nel giro di un paio d'anni a raccogliere quanto necessario per realizzare un pozzo. Nel momento in cui è stata fatta l'inaugurazione del pozzo, la fondazione che cura questi progetti, che è la Butterfly, ci ha invitato a partecipare all'inaugurazione. Io che avevo seguito un po' tutto ho raccolto questo invito, mi sono comperato il biglietto dell'aereo e sono andato con loro a vedere questa inaugurazione. E lì c'è stata l'esperienza dirompente perché vai a visitare, a conoscere non le terre turistiche, non le terre da viaggiatore, ma vai a toccare dietro l'angolo che è drammatico. Perché manca il bisogno primario, l'acqua è alla base della sopravvivenza e della vita. Lei quindi si è reso conto che con questo pozzo era stato raggiunto un obiettivo, ma il traguardo se esiste è molto lontano, però avete potuto contribuire, continuare in questa opera coinvolgendo anche altre realtà. Quindi ha continuato i viaggi, ha continuato a riprendere con la sua telecamera ulteriori bisogni della popolazione etica, io pensavo mai. Sì, la cosa doveva evolversi in questo senso, perché io non ho forzato niente, ma da lì poi è successo che un mio amico, un vero viaggiatore che ogni tanto raccoglie dei piccoli gruppi di amici e li porta con sé, ha scelto proprio l'Etiopia come obiettivo dei suoi viaggi, perché ha scoperto lui stesso che è un paese fantastico. Fantastico perché, io dico che è il paese dei contrari, i 4600 metri sono piani, perché a 4600 metri ci sono gli alti piani e le punte sono di sotto, perché partiamo a meno 150 metri sotto il livello del mare della Dancaglia e arriviamo a 4670 metri dei Montibale, perché c'è la desolazione assoluta dei deserti dove si opera con queste iniziative umanitarie e si arriva al sud dell'Etiopia dove ci sono foreste rigogliose, laghi ricchissimi di pesce, di vita e quindi è un paese che lascia spiazzati perché in quel poco spazio si trova tutto il contrario di tutto. Lei ha testimoniato questo attraverso dei video, ce l'ha raccontato con una descrizione minuziosa, ma la regia sta mettendo in sovrimpressione alcune immagini di tutto questo, ha realizzato dei video e i progetti stanno andando avanti anche, dicevamo prima, con delle serate dedicate alla promozione di queste immagini per far capire quella che è la realtà dell'Etiopia, i bisogni e quindi per continuare a costruire pozzi. Sì, la cosa che mi piace è che da una serata, un racconto di questa mia esperienza è nata un'altra fondazione da zero, è proprio nata una fondazione che a sua volta sta operando già da alcuni anni in Etiopia e questa si chiama Fonte di Vita, a sede a Biella, da un amico bellunese, tra l'altro anche lui a Gordino di San Tommaso, così com'è a Gordino l'amico che citavo prima che ci accompagna in giro per l'Etiopia che è Dino de Toffol alias il lupo e attraverso queste due figure e la butterfly che accennavo prima continuano queste collaborazioni e questi progetti. Io, quello che riesco a fare io, che sono capace di fare, è attraverso i documentari che tu citavi, di raccontare l'Etiopia nel bello e anche nel meno bello e raccogliere il più possibile dei fondi che vanno al 100% a finire sul territorio, qualche volta direttamente come nell'ultimo caso della serata fatta qualche giorno fa a Falcade, dove i fondi vanno attraverso le mani di questo Dino de Toffol direttamente sul territorio, in questo caso per realizzare delle pavimentazioni di scuole, che chiamarle scuole è, insomma, basta vedere qualche immagine che passerà, i bambini normalmente si siedono sul fango e quindi poter dare quantomeno un pavimento di cemento è già qualcosa, queste vengono fatte direttamente perché non serve alcuna autorizzazione, non serve null'altro che raccogliere i fondi per comprare il cemento e pagare a mano. Quindi non soltanto Pozzi ma anche altre opere essenziali, nei suoi viaggi lei ha sperimentato e continua a sperimentare quelli che sono altri bisogni essenziali, ha citato quello della scuola, l'acqua, ma di quanto necessiterebbero per una vita dignitosa le popolazioni delle Etiopie in alcune zone, come lei ci ha descritto, di queste contraddizioni appunto in queste terre. I progetti sono tanti, immaginano. Hai parlato di dignità e quello che più mi ha colpito è esattamente questo, arriviamo in territori dove non viene garantita nemmeno la dignità di un essere umano. Portare loro un pozzo d'acqua vuol dire fare la differenza tra la vita e la morte, ma in maniera reale, perché ci sono migliaia di persone che sopravvivono condividendo l'acqua in pozze putrefacenti di acqua e la condividono con gli animali, quindi con le conseguenze che possiamo immaginare. Quindi per loro avere un pozzo di acqua sana è già una conquista enorme. Questo è il primo passo per poter dare loro un futuro, che vuol dire vita, ma vita fisica. Una volta che c'è la vita e garantita la sopravvivenza si può dar loro l'istruzione. Ecco che l'istruzione è con i tempi che richiede, ma è il passo successivo per dare loro la possibilità di uscire da queste situazioni. Se non c'è l'istruzione loro rimanerebbero chiusi in questa sua difficoltà. Invece diamo la possibilità di sopravvivere, diamo anche l'assistenza sanitaria, perché tra questi progetti ci sono anche tanti piccoli presidi sanitari che loro chiamano ospedali, ma quantomeno si riesce a dare un'assistenza per esempio alle partorienti nel momento del parto. E poi la scuola che istruisce migliaia di bambini. Io ho visto delle scuole con 800-900 bambini, cose che qui… ma la scuola la trovi in mezzo al nulla e quando ti fermi i bambini arrivano a tutte le parti come una magia e arrivano tutti a studiare in queste scuole, liberi di professare ognuno la propria fede, perché lì ci sono fedi diversi, ci sono i cattolici, i copti, i protestanti, gli ortodossi, ci sono… c'è un po' di tutto, no? Lei ci parlava di numeri di centinaia, noi, voglio dire, il problema delle nostre classi avere 25 o 30 studenti ci sembra un problema, ma allora Soramae, lei prima citava il fatto del pavimento, avere un pavimento dignitoso e poi successivamente quello dell'istruzione, ma quindi voi individuate un progetto in base appunto a dei passi successivi, voglio dire creare prima la pavimentazione e poi l'istruzione, oppure voglio dire agire in… in determinati, in differenti luoghi per dare una mano in singoli interventi. Ci sono due realtà di organizzazione diverse, dove si fanno le scuole, i presidi sanitari, i pozzi, è necessario collaborare con le istituzioni del posto perché ci vogliono i permessi, i progetti, le autorizzazioni, chi lavora con dei macchinari adeguati per fare queste strutture ed è una cosa che si può fare solo attraverso le organizzazioni umanitarie che hanno i contatti governativi sul territorio. E poi ci sono questi piccoli interventi, come questi della scuola di cui vediamo anche qualche immagine, che vengono realizzati a 3.500 metri di quota, su piccolissimi villaggi, dove la scuola non è altro che un vero e proprio recinto con una travesì e una no e con un tetto di lamiera dove i bambini si proteggono un po' dal sole e entra un po' di luce per vederci. L'unico arredamento è quando c'è una lavagna, non la lim, una lavagna col gesso e quindi lì l'unico modo per intervenire è quello di farlo direttamente. Vediamo anche sempre attraverso qualche immagine che a realizzare queste pavimentazioni sono direttamente anche i bambini che partono nel gretto del torrente con un sasso di una certa dimensione sulla spalla, lo portano in paese, lì ci sono le persone che col martello trasformano il sasso in ghiaia. Mi scusi, ora stiamo trasmettendo delle immagini su quello che lei ci sta raccontando, ma delle serate con la proiezione dei video completi, quindi proseguirà questa sua opera nel territorio, ma le faccio una domanda, eventualmente per mettersi in contatto con questi progetti, con la fondazione che lei ci ha citato, esiste un modo per poter essere in contatto e eventualmente dare il proprio contributo? Sì, io mi auguro che da queste serate e anche da questa intervista nascano altre serate, altre iniziative dove poter fare, io mi impegno a fare lo spettacolo per presentare questo bellissimo paese ed è con l'occasione di raccogliere qualche fondo che andrà lì. Per contattarmi è facilissimo, Roberto Soromae su Google e lì mi si trova senza nessun problema perché è un nome unico al mondo, quindi mi si trova facilmente. Soromae è stato veramente un piacere, la ringraziamo per essere intervenuto nei nostri studi, alla prossima occasione. Grazie mille a te Claudio, a Telebelluno che ancora una volta mi ha dato l'opportunità di esprimermi e di fare qualcosa per gli altri. E a voi tutti gentili telespettatori e telespettatrici, grazie per la gentile attenzione, alla prossima occasione.